Ma sì, ci sono 12 vaccini, 6 praticamente già operativi, 12 arriveranno. No, no, ma sul fatto che non facciamo pasticci, che alla fine funziona tutto. No, sono fiducioso sul vaccino perché anche qui ci sarà una selezione darwiniana, capiremo rapidamente qual è il migliore, cioè il più performante, il più protettivo e quello con la reazione allergica meno forte degli altri. Però ti devo dire una cosa, c'è un dibattito che manca sul vaccino. Cioè io lo dico, lo ripeto, se il vaccino è quello che ci protegge e se il vaccino... Perché non è obbligatorio? Ciò che hai raccontato, ma rendiamolo obbligatorio. Io lo sto chiedendo a tutti gli ospiti, Luca, perché la penso un po' come te. Ti aggiungo solo un dettaglio perché fa parte di questo dibattito. Ho scritto un pezzo su TPI, sostenendo questa cosa con un minimo di argomentazioni, quindi sono una settimana che ricevo insulti, minacce di morte, accuse di esservi venduto, non si sa quale regime. Ma questi imbecilli lo sanno che hanno sei vaccini nel sangue che gli hanno salvato la vita mentre scrivono queste lettere minatorie e ci accusano di essere tutti i servi del regime perché vogliamo un vaccino. Mi racconti cose, Luca, che conosco assai bene perché appunto in questo studio noi continuiamo a chiedere ai professori che vengono a trovarci, agli scienziati.